Dopo le diverse segnalazioni giunte in redazione, nei giorni scorsi ci siamo occupati del cantiere di Via Gela a San Leone, o meglio delle transenne che delimitano quello che dovrebbe essere un cantiere ma che invece è un luogo abbandonato, con gravi rischi per la circolazione. Praticamente nessuno fino ad oggi ha avvertito il dovere di porre fine al pericolo, magari collocando un semaforo, che nel nostro caso sarebbe la soluzione giusta, al posto dei semplici cartelli di lavori in corso che tra l'altro di notte sono lasciate al buio. Insomma, niente che possa evitare qualche incidente. E mentre si reclama una opportuna attenzione per risolvere il problema, nella stessa Via Gela poco distante è spuntata un'altra recensione, anche qui senza operai. E così la trafficatissima Via Gela si conferma una strada abbandonata a se stessa, senza un minimo intervento da parte di chi dovrebbe farlo. Grazie. Grazie.